Mentre molti titolari di attività di ristorazione denunciano le difficoltà nel trovare personale stagionale, tanti altri vengono quotidianamente scoperti a sfruttare giovani facendoli lavorare in nero, due facce della stessa medaglia che rispondono in parte alla domanda su come mai tantissimi giovani preferiscono restare a casa senza lavoro piuttosto che lavorare senza garanzie contrattuali. Le attività, finalmente in zona bianca, tentano di tornare a pieno regime ma si scontrano con la carenza di lavoratori, pochissimi infatti i giovani che rinunciano al reddito di cittadinanza per andare a lavorare. Più volte sigle sindacali e associazioni di categoria hanno denunciato tale fenomeno che dilaga nelle ultime settimane anche in provincia di Ragusa. Spesso chi vuole lavorare ed abbandonare quindi il reddito di cittadinanza viene messo davanti a una scelta non certo semplice e legale, quello di essere retribuito, spesso anche meno del dovuto non è badare agli orari e dulcis in fondo lavorare in nero. Lo confermano anche le ultime indagini dei carabinieri del nucleo, ispettorato del lavoro e della stazione di Marina di Ragusa che hanno effettuato una serie di controlli a stabilimenti balneari nelle spiagge delle capoluoghi bleo volti al contrasto di ogni forma di sfruttamento del lavoro. Due sono stati lì disanzionati perché sorpresi a impiegare lavoratori in nero in carenza di ogni garanzia contrattuale e pertanto sono stati sanzionati per un totale di 20.000 euro. Nei confronti di uno dei due stabilimenti è stata disposta anche la sospensione dell'attività a causa della sproporzione del numero di lavoratori irregolari rispetto al totale di cui due italiani e un rumeno. Questi sicuramente sono solo alcuni dei locali dove si predilige assumere in nero perché molti altri potrebbero ancora venire a galla con ulteriori indagini estese in altre frazioni balneari blee. Questo è quanto sottolineano anche i carabinieri di Ragusa, sempre attenti al delicato tema della tutela dei lavoratori, in particolare in un territorio dalla forte vocazione turistica dove le occasioni di lavoro stagionali possono incrementare tale fenomeni a danno dell'erario e dei singoli lavoratori, la cui protezione è la finalità dei controlli svolti.